Curare un paziente a distanza si chiama telemedicina ed è un nuovo tipo di assistenza sanitaria grazie ad una serie di tecniche mediche e informatiche. Nei giorni scorsi il dottor Ottavio Di Cillo, a capo dell'Agenzia regionale della salute della Regione Puglia, ha incontrato i dirigenti di Casa Sollevo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo. Ascoltiamo le parole del dottor Di Cillo e a seguire quelle del dottor Lucio Vigliaroli, autorino laringoiatra presso Casa Sollevo della Sofferenza, che ci spiegherà i campi di applicazione, quali sono i campi di applicazione della telemedicina in otorino laringoiatria. Noi attraverso un protocollo che riguarda proprio il Covid, un progetto a casa, determiniamo la maggiore assistenza al cittadino attraverso l'integrazione fra domicilio. Il paziente con una visita da remoto, consideri che la maggior parte delle risorse vengono affidate, in Puglia circa l'80% a soggetti over 65 anni, possono soffrire di una consulenza, di una visita direttamente a domicilio e in quest'ultimo tempo col Covid, credo che stia aumentando l'empatia dei cittadini verso questo nuovo tipo di assistenza sanitaria. Sono venuto con molto piacere a San Giovanni Rotondo per condividere una serie di iniziative che riguardano sia le attività di consulenza ambulatoriale, stiamo preparando il nomenclatore tariffario che metterà in relazione le attuali attività ambulatoriali con quelle telemedicina. Questo chiaramente riguarderà un po' tutti gli ospedali. L'obiettivo, già che l'ospedale di San Giovanni Rotondo è già nella rete dell'infarto, è renderlo più attivo attraverso anche la diagnostica e non soltanto il servizio. E poi una serie di progetti che possiamo mettere in piedi con l'apertura dell'emminente centrale operativa regionale di telemedicina che coordinerà tutte le attività sanitarie e sociosanitarie della regione Puglia. L'ottolore della lingua di atria è una branca che ben si offre a poter essere compresa in quelle che sono le attività future della telemedicina. Innanzitutto è quella che prevede l'utilizzo della telemedicina per fornire dei servizi, innanzitutto, audiologici. Da questo punto di vista i servizi audiologici possono essere sia di tipo diagnostico, quindi tutto quello che può essere l'approccio allo studio del paziente a distanza, affetto da ipoacusia o altre problematiche inerenti all'udito, e si estende poi pian piano verso tutto quello che è l'approccio curativo, quindi il poter gestire attraverso delle modalità che noi chiamiamo di remote fitting e per le quali il nostro ospedale e la nostra unità operativa complessa si sono già attivate nel periodo del Covid per poter monitorizzare il nostro paziente a distanza fornendo risultati pressoché sovrapponibili.